La Bookstore Mondadori di Via Milano a Pescara è una delle pochissime librerie aperte in città. Avete riaperto per soddisfare le esigenze della clientela? C'è gente in fila fuori, fate entrare due persone per volta. Sì, noi abbiamo deciso di riaprire perché speriamo, siamo ottimistici, speriamo che si torni il prima possibile alla normalità. Ovviamente con le dovute precauzioni, quindi anche se c'è un po' da attendere è per la sicurezza di tutti, di noi dipendenti ma soprattutto dei clienti. E devo dire che le persone già da ieri sono cambiate negli atteggiamenti, sono più gentili, disponibili e soprattutto attente. Non pensavamo che già in automatico da sole prendessero i guanti, si disinfettassero le mani, quindi è veramente facile. Pensavamo fosse più difficile, invece le persone ci stanno dando veramente una grande mano. C'è un buon afflusso di gente questa mattina, così come ieri nonostante la pioggia. Quali sono i titoli che state vendendo di più? Harry Potter sia per bambini che adulti, perché con il fatto che hanno trasmesso i film diciamo il mese scorso c'è stato un boom di Harry Potter, altrimenti già gli anche vanno molto e anche libri informativi sul virus. Quindi gli orari in questa particolare situazione quali sono al Bookstore Mondadori? Allora noi siamo aperti da lunedì al sabato, la mattina dalle 9 alle 13, e invece il pomeriggio dalle 16 alle 19.